Rilascio, respiro e rilascio e con la mente io sto cercando di focalizzare su il mio meraviglioso corpo che non mi ha abbandonato ma sta aspettando che io non faccio il dono dell'amore che è dentro di me, io focalizzo sulle parti del mio corpo che non fanno bene, che è dove io non mi sento perché ce ne sono e anche se sono i capelli focalizziamo su quelli, è tutta una questione di focalizzazione, respiro e rilascio, inspiro e rilascio. Ogni volta che io dico rilascio, io rilascio le tensioni, io rilascio il dolore, io rilascio la paura, io rilascio le frustrazioni, io rilascio perché io posso, perché la mia mente controlla è il mio corpo, io rilascio il dolore, io rilascio, io rilascio, io rilascio, io rilascio e rilascio. Ogni parte del mio corpo si sta sciogliendo, ma letteralmente sciogliendo. E allora io adesso inizio a pensare ai punti dei miei piedi, con la mia mente io focalizzo sui punti dei miei piedi e rilascio. Rilascio, rilascio perché voglio, perché posso, rilascio. Io sto ascoltando il mio respiro, sto ascoltando il mio respiro e sto diventando consapevole di me e rilascio. Adesso penso a tutti i miei piedi, faccio un po' di tensione e rilascio. Io rilascio, rilascio, inspiro e rilascio. Io voglio sciogliendo. Io voglio che ho nato questa pace e serenità. le miei piedi, le mie piedi, le mie polpacce. Faccio un po' di tensione e rilascio. Il mio respiro sta diventando più profondo e rilascio. Ogni volta che io vi dico rilascio, voi avete voglia di rilasciare tutto lo stress, tutte le tensioni e le ansie e le paure. Adesso rilascio. I miei polpacci, le mie gambe, tensione e rilascio. Le mie gambe, le sto sentendo leggeri. E rilascio. Rilascio. I miei muscoli si stanno sciogliendo. Rilascio. Il mio bacino, dove io tengo tanta tanta tensione. Io ho dubbi, ho paura, ma io rilascio. Mi sento l'attenzione e rilascio. Adesso la mia pancia, i miei intestini, il mio stomaco. Rilascio. Mi sento proprio che sto sciogliendo. Rilascio. Con ogni respiro, inspiro e ogni volta che respiro io penso rilascio. Il mio petto, il mio cuore. Io faccio tensione. E con ogni rilascio io mi faccio riempire di una sensazione di pienezza di me stessa. Di una sensazione di amore per me. Di una sensazione di protezione per me stessa. Di una sensazione di accettazione di me stessa. Io voglio accettarmi. Io posso accettarmi. Io posso permettermi di volermi bene. E rilascio. Io rilascio. E rimane dentro il mio petto, il mio cuore. Una sensazione di leggerezza e amore per me stessa. Io rilascio. E riempio di me. Riempio di me. Riempio di me. Le mie spalle. Le mie spalle. Che io porto tanta tensione. Le mie braccia. Che sono doloranti. Io faccio tensione. Io faccio tensione. Sciolgo. E rilascio. 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 La mia schiena. Faccio un po' di tensione. e rilascio. E rilascio. Rilascio. Il mio respiro adesso è regolare. Il mio cuore si sta colmando di me. Io sento. Io sento un colore. Sento una luce. Sento che mi sto riempendo di me. E rilascio. Tutto quello che non mi serve. Tutto quello che mi fa male. Rilascio. Il mio collo. Faccio tensione. E rilascio. Mi sento sciogliere. E rilascio. I miei muscoli facciali. Sempre tesi. Divento consapevole di questa tensione. Divento pienamente consapevole. E sento che non c'è da avere paura. Io sono al sicuro. E rilascio. Rilascio. Sento proprio che la mia mandibola sempre tesa. Si sta sciogliendo. E rilascio. 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 Adesso penso ai miei occhi. Alla mia fronte. A tutto il mio cranio. Sento quella tensione. Sento la mia mente. Sento la mia mente che è tesa. E io decido di dare la direttiva al mio subconscio. di rilasciare. Quella tensione. Perché non mi serve. E rilascio. Rilascio. Io faccio il mio bene. Io faccio solo il mio bene. Io rilascio quello che non mi serve. Questa tensione. Questa tensione. Non mi serve. E rilascio. Adesso io mi visualizzo. Che sto camminando lungo un viale. È un sentiero. E io sto camminando. E sento che con ogni passo. Il mio pesantezza. Si sta alleggerendo. Questo viale. Io cammino. E arrivo a una bellissima casa. In fondo. A questo viale. È la casa più bella che io abbia mai visto. È proprio la casa dei miei sogni. E io sono stranamente attirata. Dentro questa bellissima casa. È un rinchiamo. Che io non posso rifiutare. Io entro dentro questa casa. Che io non ho mai visto prima. Tranne i miei sogni. E io entro dentro. Ed è bellissima. E dentro questa casa. È bellissima. Tutto nuovo. Ma familiare. E c'è un lungo corridoio. Anche dentro questa casa. E lungo questo corridoio. Ci sono. Fotografie. Dei momenti belli della mia vita. Dei momenti più belli della mia vita. E io focalizzo su questo. Io vedo e sorrido. E con ogni passo. Mi sento sempre più a casa. E vado in fondo a questo corridoio. Anche se io non so dove sto andando. Ma sento che posso proseguire. E le tensioni. E le tensioni. E io decido. Di rilasciarli. E c'è una porta. E io apro. Quella porta. Io non ho paura. Io entro in una stanza. Dove. E. Un po' spoglia. Ma io entro in mezzo a questa stanza. E mi siedo proprio nel centro. E io mi sento stranamente. A caso. E voglio capire cos'è questa bellissima stanza. Spoglia. E allora. Il tetto. Di questa stanza. Sparisce. E entra dentro. Una luce. Dorata. Illuminante. Io sento il calore. E sento dentro questo calore. Una sensazione di amore. Una sensazione di protezione. Una sensazione di perfezione. E poi dopo. Il parete sinistra. Il parete a destra. Il parete davanti a me. Il parete dietro di me. Spariscono. E anche il pavimento sparisce. E io fluttuo. E tutto intorno a me. E questo calore. Questo dorato. Luce. Pieno di calore. Pieno di amore. E io sento una sensazione. Di amore. E di protezione. Mi sento al sicuro. Mi sento al sicuro. E io mi carico. Di questa sensazione. E io capisco. Che questa è la sensazione. Che dentro il mio profondo. Dentro il mio profondo. C'è questo. E quindi io capisco. Che io non ho paura. Di andare dentro il mio profondo. Perché dentro il mio profondo. C'è la protezione. C'è la perfezione. C'è l'amore. C'è l'amore. E io rilascio. E mi carico. E mi carico di amore. E mi carico di amore. Allora io ci sto qua un po'. E mi meraviglio. Di questa sensazione. Che è una sensazione. Che sta partendo da dentro di me. Sta proprio partendo da dentro di me. Questa stanza sono io. Questa stanza sono io. Questa perfezione sono io. Ma io non l'avevo mai visto prima. E con questo tesoro qua. Io mi rialzo. E riprendo. Il mio cammino. Carico. Carico di questa perfezione. Questa bellezza. Questo calore. Questo senso di perfezione. Questo senso di amore. Perché io sono amata. Io sono amata. L'universo mi ama. Io sono perfetta. Io devo solo capire. Quanto sono perfetta. Io sono perfetta. Non ho bisogno di diventare niente nessuno. Ho bisogno solo di capire. Quanto sono. Perfetta. E riprendo il mio cammino. Io dico grazie. Grazie. Perché ho visto questa perfezione. Che era dentro di me. Dentro di me. Riprendo il mio cammino. Giù lungo questo vialone. E lascio questa stanza bellissima. Ma porto il calore. E la perfezione. E il senso di amore dentro di me. Riprendo il mio cammino. Esco fuori da questa bellissima casa. Consatevole che questo. È un tesoro che. Ogni volte che ho bisogno di caricarmi. Ci posso tornare. Mi aspetta. Mi ricarica. Mi rigenera. Sta dentro di me. E io riprendo il mio cammino. Lungo il vialetto. Lascio il prato. Guardo indietro questa bellissima casa. E dico grazie. Grazie. Perché ho visto questa bellezza. E sta dentro di me. Ho visto questo amore. E ho capito che sta dentro di me. Riprendo il cammino. Del giardino di questa casa. Arrivo il vialetto. Saluto la mia casa. Consapevole che. Sono io. Quella bellissima casa. Sono io. Riprendo il mio cammino. Nella vita. Quella strada. Che mi porta. Alla mia prossima avventura. Al mio prossimo. Obiettivo nella vita. Al mio prossimo attacco. Consapevole che. Questa bellissima casa. Sta dentro di me. E dentro di me. Io posso richiamare questa forza. Questa bellezza. Questa purezza. Ogni volta che ne ho bisogno. Questa luce è dentro di me. Questa voce che mi dice. Tu sei amata. Tu sei amata. Tu sei amata. Tu sei amata. tu sei amata, tu sei amata, e allora riprendo il mio cammino lungo la strada, riprendo il mio vita, riprendo il cammino della mia vita, consapevole che io sono amata e non ho paura, non ho paura, non ho paura, e rilascio, rilascio, rilascio. Adesso, ascoltate il vostro respiro, e io adesso vi chiedo, dopo questa visualizzazione, di ascoltare il vostro respiro, e ascoltare il vostro respiro, che vi scopre il mondo, voi siete unici, siete magnifici, siete creature magnifici, siete unici sulla faccia della terra, siete speciali, siete perfetti, dovete solo essere voi stessi, Ascoltate il vostro respiro, diventate consapevoli del vostro respiro, riempitevi di voi stessi, riempitevi di voi stessi, e ascoltate, ascoltate. Cosa vi state dicendo, ascoltatevi, parlatevi, e dite, non c'è davvero paura, ce la faremo, Ascoltatevi, adesso, per cinque minuti, lasciatevi ascoltare il vostro respiro, Ascoltate il vostro respiro, la vostra mente sta focalizzando il sole sul vostro respiro, e vi chiedo di ascoltatevi, con amore, con pazienza, siete unici, siete perfetti, voi siete amati, siete amati, siete amati. Ascoltatevi, sono state amati, siete amati, siete amati, siete amati, siete amati, And a 이번 entra, siete amati, siete amati, siete amati, siete amati, siete amati, siete amati, Tu sei a nada, tu sei a nada, tu sei a nada, tu sei a nada. Tu sei a nada, tu sei a nada, tu sei a nada. Tu sei a nada, 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 tu sei a nada. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Grazie a tutti